ciao amici dei gommini sono appena andata a fare la spesa di cose sane e adesso volevo assaggiare subito una roba ciao amici dei gommini e amici in generale sono appena uscita dal da supermercato e ho comprato un sacco di schifi tra cui queste patatine che sto mangiando in giro per il mondo in giro per le stazioni e volevo provarle con voi perché mi sono resa conto che praticamente io compro solo le cose se ci sono i regali quando sono in giro ovviamente che non sono particolarmente affamata però prima volevo farvi vedere quanto è bello qua fuori dalla mia macchina sto tipo per scoppiare un temporale e la mia drive view drive view come non so come cavolo si chiama insomma il mio tettuccio che è tutto di vetro mi fa vedere tutta questa cosa super spaziale e il parchetto ma banda le ciance adesso cercherò di aprire questo pacchetto insieme a voi e vedere che cosa trovo in regalo una specie di agli assaggi di lilla però alla ricerca di regalo allora apriamo oh che belle vi faccio vedere le patatine come sono sono così pensavo fossero gli stick normali sono morbidissime e sanno di ketchup infatti sulla confezione sul tuo gusto ketchup e si sono abbastanza di ketchup all'interno mentre io ne mangio un'altra buone c'è questo pacchettino io lo apro vedo qualcosa di verde in trasparenza che bello il mio primo blog e si trova questo pacchettino così adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro c'è la c'è lo zombie con gli amorini con i due amorini adesso ve lo metto bene bene a fuoco ne ho trovato questo qua verde ne ho trovato un altro mandando le classiche mi sembra fosse giallo se lo trovo poi ve lo filmo è troppo carino va bene allora le woks stick gusto ketchup mi piacciono e i regalini sono questi questo qua ho preso anche un altro pacchetto che aprirò sicuramente in un'altra puntata che è questo qua gusto spring onion cioè erba cipollina c'era scritto formaggio d'erba cipollina però alla fine sono così ok un bacio da lille tutto ciao c'è bellissima adesso vado in giro così ditemi se anche voi l'avete provato e se vi piacciono perché devo dire che sono rimasta piacevolmente colpita ciao